Il Prince George, la principessa Charlotte e la scelta appena rivelata del principe Louis di una nuova scuola per settembre ha suscitato preoccupazione tra i genitori di alcuni alunni esistenti. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno annunciato che la famiglia si trasferirà a breve dal Kensington Palace, nel centro di Londra, ad Adelaide Cottage, nel Berkshire. La famiglia sarà più vicina alla base della regina Windsor.La mossa richiederà anche un cambio di istruzione per i giovani bambini di Cambridge, che stanno lasciando batterse a di Thomas. Il principe George, 9 anni, ora frequenterà l'Allan Brooks con l'insieme ai suoi fratelli, la principessa Charlotte, 7 anni, e il principe Louis di 4 anni. Kensington Palace ha dichiarato, il duca e la duchessa di Cambridge hanno annunciato oggi che il principe Giorgio, la principessa Charlotte e il principe Louis frequenteranno l'Allan Brooks School nel Berkshire a partire da settembre 2022. Le loro altezze reali sono estremamente grate a Thomas Battersea, dove George e Charlotte hanno avuto un felice inizio della loro istruzione rispettivamente dal 2017. E dal 2019 è sono felici di aver trovato una scuola per tutti e tre i loro figli che condivida un'etica e valori simili a quella di Thomas. Un genitore è stato citato per descrivere acri di spazio e nessuna invadenza definendo la comunità stretta e inclusiva Allan Brooks. Ma che ansia tra gli attuali genitori che hanno deciso di mandare i loro piccoli Allan Brooks prima che i Cambridge annunciassero la loro decisione di Scegliere l'istituto del Berkshire. Secondo quanto riferito, le liste d'attesa sono salite alle stelle da quando il duca e la duchessa hanno iniziato a valutare se inviare il terzo, quarto e quinto in fila al trono Allan Brooks. Un genitore ha detto ai Telegraph, vedremo cosa succede, se diventa troppo pazzo non manderemo lì il nostro secondo figlio. Un genitore ha detto ai Telegraph, vedremo cosa succede, se diventa troppo pazzo non manderemo lì il nostro figlio. Un genitore ha detto ai Telegraph, vedremo cosa succede, se diventa troppo pazzo non manderemo lì il nostro figlio. Un genitore ha detto ai Telegraph, vedremo... Grazie a tutti.